Una cena tutta, tutta pugliese, a base di asparagi selvatici. Come primo, orecchiette fatte in casa, orecchiette della nonna, con farina, acqua e sale. Condite con gli asparagi, come secondo, in voltini di asparagi selvatici e pancetta, fatta in casa. Asparagi selvatici con pancetta, cucinati al cartoccio, il nostro buon vino pugliese. Ed il pane è fatto in casa. Buon appetito!